Il Passo del Carnaio è il luogo dove il 25 luglio del 1944 vennero uccisi 26 cittadini di San Piero in Bagno, rastrellati per rappresaglia dai tedeschi, dai nazifascisti, che dovevano vendicare l'uccisione proprio sul Passo del Carnaio di tre loro soldati. Naturalmente per me questo fa sì che il 25 aprile spesso coincida col 25 luglio, nel senso che sono due date che so essere fortemente legate, che per quanto mi riguarda e soprattutto per quanto riguarda la mia famiglia, in primis mia nonna Santina, la moglie di Amato Corzani, che venne appunto trucidato in quell'occasione, hanno significato tanto dolore, tanti patimenti, tanta fatica, la forza, il dovere e anche l'abnegazione di tirare su una famiglia, una delle sue figlie l'aveva ancora in pancia, mia nonna quando è successa questa cosa, e allo stesso tempo con l'impossibilità di dimenticare un'ingiustizia del genere, che di questo eccidio ci si ricordi non come altri eccidi forse più eclatanti, è una cosa che sta forse nel conto matematico delle cose, ma questo non cambia niente dal punto di vista del ricordo invece di coloro che si sono ritrovati coinvolti, anche quelli come me che l'hanno scoperto, questo ricordo doloroso molti anni dopo, perché io sono cresciuto in anni in cui già mio nonno non c'era già da tanto tempo. Così, ancora una volta, il 25 aprile deve essere, sì, un ricordo, una festa, ma anche un monito, perché in quel periodo, quando la linea gotica si stava spostando sulla pressione dei soldati americani a sud, si stava spostando sempre più verso nord, si sono celebrate tante crudeltà, tante ingiustizie, e chi ha lottato per far sì che questo gioco nazifascista venisse in qualche modo vinto deve essere ricordato e devono essere ricordati soprattutto quelli come mio nonno che da innocenti vennero messi come una sorta di pegno per la causa e gli venne stroncata la vita in un modo così violento e doloroso.